Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Giuliano Brancaleone e qui oggi in battaglia con altri giocatori ci sono io se vi ricordate bene l'altra puntata cioè parte 2 l'abbiamo fatta sul canale di Ale Gamer se non lo sapete andate sul suo canale e iscrivetevi se vi piace non vi piace se vi è piaciuto il video e allora vi voglio avvertire di una cosa bellissima dopo domani faremo la prima puntata di Lego Dimension allora Giulio facciamo squadra sono Ciro allora ragazzi possiamo fare solo cinque minuti di battaglia e poi ci poi abbandoniamo perchè c'è questo pantasmo in jota ecco sta creando ma perchè ti è creando? chi se ne importa nessuno ma perchè? no no non ti permette si dai allora io ho preso qualcosa io niente allora fare un po' di cibo eh infatti dobbiamo fare di me ciro un attimo sto venendo col testo ecco sei con me tu dove sta? ci sta secondo un tizio vieni eh ma sono io dove sta? ciro sono lui vieni sono io oh mio dio ciro mi sono uccidendo ciro 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 ah lei c'è qua ciro eh ma ciro ti prego seguimi ciro mi sto uccidendo ma perchè stavo uccidendo? eh poi io dietro di testo ma ciro qual è tizio? ciro aspetta sai sai dove? siamo sopra qui guarda questo è il tizio lo vedi? aspetta lo vedo lo vedo ok uccido e non lo vedo perchè ha buttato una cosa? perchè ha buttato te? perchè sta buttando me con me? guarda ti voglio uccidere ciro dietro di te ciro dietro di te ora io sto sfruttando ma quello c'è nell'arco e non fai niente uccidimo sto arrivando gigino d'alessio bravo dico gigino d'alessio gigino d'alessio muori 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 gigino d'alessio gigino d'alessio no no sta uccidendo ci c'è c'è no mi ha ucciso gigino d'alessio il fantasma ti ha ucciso pure gigino d'alessio comunque no che schifo sono un fantasma no siamo i primi ad essere morti per la paura ma guarda questo cioè questo tizio si è buttato male vorrei tanto che ok come ma sono tre che fanno quello che fanno tim scusate facciamo a bere ok comunque la c'è ora gioca e giro è andato un attimo a bere le tre subito non fa tempo che torna vediamoci la battaglia guarda ragazzi ma comunque c'è molto che hanno fatto tim non è che sì ok ragazzi ok ragazzi c'è un ritornato andiamo giù andiamo giù poi dico stanno facendo tim eh sì non si compacciano ok 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 si stanno battendo no no dai per i fantasmi sono forti in questa lotta sono i fantasmi ma qua sono nomi dei più gli altri no perché ah si sono uniti nuovi personaggi eh eh tutto buone eh guaglione malavito come stai mamma mi ha deciso ti prego mi ha impressi aeroplane c'è aeroplane guaglione malavito come stai mamma mi ha deciso ti buttò giù Ale lo sai che una volta ho visto come come quel tizio è salito là sopra sì Ale ho visto nella biblioteca un tizio come è salito là sopra praticamente ha premuto un bottone che non so dov'è e ha fatto un parkour per andare da questo lato non so che cosa ha premuto ha premuto una cosa ma ora quel fantasma il fantasma si è attivato una cosa lì un parkour si è attivato un parkour mamma è venuto aeroplane 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 lo sai che cosa è per puntuare niente Ale sono andato dall'altra parte ma è stato aeroplane c'è una leva l'ho vista dove? non so eh anche io ben pazzo ma poi come fanno loro a sapere già ste cose mi hanno imparato dal vicino d'alesio 33 non può essere ma mamma mia come sai Ale io ti ho preso tutto qua ma come fai ok ma dove sei? ok Ale dove sta eroplane? io lo troverei eroplane devo spiegare ok vado ad uccidere a qualcuno sono ti posso seguire allora appena finisce la partita finiamo perché già sono troppi minuti voi se no non ce la farà mai a caricare vai un asce l'ho trovato ma io già ero andato lì sono rubato di qualcosa mamma ma devo stare super attento oh mio c'è aeroplane tantissimi stanno sta combattendo contro il villaggio aeroplane ti aiuto aeroplane ti aiuto aeroplane ti aiuto no è morto chi è morto? no è aeroplane dai uccidete aeroplane ti 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 no eroplane aeroplane mori 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 con la mia pala tu morirai con la mia pala Ale questo fantasma mi ha ucciso no il piantasma mi ha ucciso ma che cavolo questo fantasma è maledetto ma il fantasma è maledetto non tiene no non sembra sicuro no allora ti devo dire una cosa adesso vorrei farlo che ho scoperto notch ha le skin che si comprano le skin che si comprano hanno dei super poteri oh vabbè si tipo come il fantasma ha la la potion della velocità infinita vabbè ci roma credo che la possiamo finire perché tanto siamo tutti e due morti infatti vabbè ciao a tutti ragazzi aspera aspera voglio fare il saluto io ragazzi se vi piace il video mettete mi piace per me no no per me per me per Ciro e poi ragazzi iscrivetevi nei nostri canali che Ciro rimarrà in descrizione il mio canale che poi bello ragazzi no 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 lo so bene ragazzi voglio dire perché ci sono a per me per me per me per me per me